posso profondamente immergermi seme famoso i germogli che sbocciano dai colpi sottili mi guideranno in questo viaggio nella foresta ci sarà un viaggio di andata poi al secondo ritmo sarò arrivata e arrivato nel luogo dove degli specifici insegnamenti o cura riceverò legate al mio intento le mie domande eventuali agli incontri che farò di persone animali spiriti chissà che altro e poi col terzo ritmo ci sarà il ritorno lungo la stessa strada verso casa di nuovo è il ritmo soffio che mi guida nel viaggio entro nella foresta grazie a tutti 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 grazie a tutti